Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per una manifestazione che si chiama Musi Cleto che si svolge proprio all'interno del castello di Savuto. Il tema è tre incontri di musica ineffabile in compagnia del direttore artistico che è Viviana Andreotti per assistere poi alla musica tradizionale eseguita da Matteo Dodaro e Vincenzo Di Sanso. Adesso però parleremo proprio con Viviana Andreotti che ci racconterà come mai ha scelto di porre in essere in questa location meravigliosa Musi Cleto. Sì, proprio perché è una location meravigliosa, è un sito splendido purtroppo ancora poco conosciuto, cioè conosciuto molto sulla costa, sul Tirreno, però di meno nel Cosentino. Quindi questa è un'occasione per far conoscere anche ai cittadini dell'entroterra della provincia questo sito che è appunto meraviglioso. Una domanda molto semplice. Vieni da Cosenza, quindi comunque il panorama cosentino è da sempre stato caratterizzato vuoi per l'università, vuoi anche per le bellezze anche architettoniche dalla cultura. Ma ci sono anche piccoli posti non scoperti come Cleto e altri borghi che invece meriterebbero di essere valorizzati, a volte proprio con tematiche tradizionali come la musica, che riprende magari culture ancestrali e che ci riporta alla mente paesaggi come questi che sono veramente bucolici. Sì, diciamo che la tua è una doppia domanda. Nella prima parte della tua domanda risponderei così. Cosenza è un territorio, è una provincia vastissima, che ha dei gioielli splendidi che evidentemente hanno bisogno di essere valorizzati e allora accogliamo l'occasione per lodare il lavoro dell'amministrazione comunale di Cleto capitanata dal professore Giuseppe Longo che l'anno scorso ha restituito alla cittadinanza questo sito contribuendo alla valorizzazione non solo del sito di Cleto e del comune ma di tutto il territorio, tutto ciò che c'è attorno, i borghi, il paesaggio, il mare perché infatti speriamo che questa sera arrivino qui molti turisti anche proprio dalla costa perché questo è un servizio offerto anche ai turisti della costa che sono in questo periodo estivo estremamente numerosi e curiosi di conoscere le bellezze nascoste. La musica della tradizione è la musica che noi impropriamente, molto impropriamente chiamiamo musica folcloristica ma non è... La musica della tradizione è la musica della tradizione orale, cioè la musica non scritta è una musica che si tramanda di generazione in generazione, padre e figlio, madri, figli, nonne e nipoti e attraverso i costruttori di strumenti. Quindi è una musica che ha un valore territoriale ineguagliabile. Allora valorizzare questo tipo di manifestazione culturale che è tipico e radicato nel territorio è sempre una cosa molto importante per cui io sono molto contenta che il comune di Cleto mi abbia, come dire, favorito in questa idea perché è un'idea che è nata con Cleto, non è nata da me è nata con Cleto, è nata con l'amministrazione di Cleto, è nata insieme alla Proloco e quindi è nata anche con una carissima amica che è Elda Longo, una mia collega che è un'artista conosciuta a livello europeo e che con la sua creatività e fantasia mi ha supportato nella realizzazione di queste idee anche dal punto di vista organizzativo perché come si sa l'organizzazione di questi eventi è sempre estremamente complessa e quindi musica della tradizione, sì. Stasera ascolteremo Matteo Dodaro e Vincenzo Di Sanzo che sono due giovanissimi musicisti, esperti e studenti, ancora studenti e studiosi nello stesso tempo, esperti di musica della tradizione orale del territorio perché si muovono proprio nella ricerca sul campo e vanno a scovare gli strumenti musicali le danze, i canti non scritti, li registrano e poi li ripropongono quindi è un lavoro complesso ma molto appassionante. Io ringrazio davvero Viviana Andreotti per questa intervista perché io invito soprattutto i nostri amici web ascoltatori a venire a visitare Cleto, a conoscere questi ragazzi ma soprattutto a conoscere le attività che comunque immagino che non solo in questo contesto ma anche altrove saranno svolte e saranno fatte perché poi le bellezze che abbiamo proprio qui in Calabria sono tante, bisognerebbe semplicemente valorizzarle e portarle alla luce, un po' come dei piccoli archeologi che decidono di scoprire questo castello ad esempio che è veramente magnifico e bellissimo. Io chiedo semplicemente a Viviana Andreotti se abbiamo la possibilità di lasciare dei riferimenti per chi volesse, non so, invitarvi, contattarvi ed eventualmente portare anche da loro in altri magari borghi la musica, la tradizione e comunque la cultura. Questa è un'idea del cresciuta e nata in seno al comune di Cleto. Non c'è un'associazione che si occupa di questo, è un'idea che ha voluto sviluppare il comune contestualmente alla Proloco e per questo io sono stata coinvolta come direttore artistico però a questo proposito vorrei dire che ci sono ancora altre due serate c'è la serata del 7 agosto e quella del 25 in queste altre due serate saremo veramente lieti di accogliere il pubblico perché ci saranno espressioni musicali diverse se adesso stasera sentiremo la musica della tradizione orale il 7 si parlerà di Shakespeare in Music cioè l'opera lirica ispirata alle grandi tragedie shesperiane e il 25 di agosto invece si parlerà o meglio suonerà uno splendido virtuoso della fisarmonica che spazierà dal barocco bachiano quindi musiche di Bach scarlatti fino alla musica contemporanea al jazz e al tango e a piazzolla che si chiama Eugenio De Rose quindi la sera del 7 ci sarà il professor Eduardo Ciampi il professor Eduardo Ciampi che viene da Roma ed è uno studioso di lingua e letteratura inglese e di musica inglese che ha pubblicato una serie molto numerosa di volumi sul tema proprio della musica nell'Inghilterra del Novecento in particolare e poi ci sarà appunto il 25 Eugenio De Rose Perfetto, quindi invitiamo tutte le persone che sono in zona o comunque decidono di voler scoprire Cleto e il Castello di Saputo 7 agosto e 25 agosto proprio qui in questa location le informazioni le troverete in sovrimpressione sul video e vi ringrazio Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto e vi ringrazio Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cleto